Ciao a tutti! Dunque, continua il... Non so come so dire... Continua... Il susseguirsi delle mie spighe. Perché io, ve lo giuro, vorrei parlare bene dalla Germania, ma si fa tutto di merda in continuazione. È difficile trovare gli argomenti. Quindi cercherò di essere più gentile possibile. Dunque, va bene, mi prendo le mie responsabilità, non è stata colpa di nessuno, sono caduta io in bicicletta e i medici sono stati bravissimi. Ho trovato soltanto uno stronzo, che non era medico, che mi ha preso per il culo all'ospedale. Comunque, gliel'ho fatta pagare perché lui mi aveva detto Ah, ma lei qui è praticamente di famiglia, con io tutta coperta, con un male perché mi avevano esaminata dappertutto. Era tutto coperta di ferite, questo mi piglia per il culo facendo così. Io ho pensato, idiota, ho girato la testa a destra e ho visto il volantino contro l'AIDS. Peccato che non ho visto il volantino contro la disfunzione erettile. Ho preso questo volantino e quando stavo per andare via, perché mi avevano chiamato, gliel'ho lanciato praticamente dicendogli questo è per lei. Dandogli del malato d'AIDS puttaniere davanti a tutti, ma in forma molto indiretta. Perché sono una demmina di classe e quando mi si pezzano i piedi e l'orgoglio fa incazzare i leoni. Ho tanti pianeti in leone, quindi sono orgogliata. Quindi non cagate il cazzo. Ma, quindi, bicicletta ho dei problemi. La macchina ce l'hanno cilindrata. Cosa succede? Restano soltanto più. L'autobus, la metro c'è a Colonia ma a me non serve. E l'autobus e il treno. Oggi per la seconda volta improvvisamente danno l'annuncio. Questa corsa finisce qui. Prego scendere. Ma come finisce qui? Che ho altre due fermate. Che cazzo vuoi dire? Che fa un freddo della madonna, è mattina. E niente, no. Ci ha scaricati lì così e non si sa per quale motivo. Scaricati come una ragazzina di 16 anni dal primo innamorato. Per telefono, eh. Perché a me non ha fatto così. Ringrazio ancora il mio ex. Ha due figli adesso. Chissà che se la sua prima bambina non avrà lo stesso trattamento dal suo primo fidanzatino. E chissà come la prenderà lui. Ma vabbè, andiamo avanti. Vendetta così. D'amblè. Niente, quindi ho dovuto aspettare il prossimo polma. Intanto che finivo le bestemmie. Per il momento. E poi, mi è arrivato un messaggio fantastico. Come, perché vi devo dire com'è finita con la macchina, no? Dunque. La macchina è stata valutata per un valore di 2800 euro. Ma i danni, che è quello stronzo che ci ha cilindrato la macchina perché non l'ha vista di notte. La macchina era nera, perfettamente parcheggiata dentro le linee. Però lui non ha visto un cazzo. Sono di 5200 euro. Io e quell'uomo lì dobbiamo parlare. Io lo so che tu sei italiano come me. Quindi, nel caso tu vedrai questa cosa, c'è il rischio che mi quereli. Ma frega un cazzo. Io dico, la strada che c'è davanti a casa nostra è larga quanto più o meno la piazza rossa. Più o meno, è a occhio. Tu giravi. Ma che razza di manovra hai fatto per riuscire a sbagliarla e andare e prendere la curva troppo larga? La strada è enorme. Ci riescono anche i tir ad attraversare quella strada e tu no. E poi, tra l'altro, con tutte le macchine che c'erano, proprio la nostra dovevi prendere. Questo è come finito con la macchina. E io spero, almeno, che i Pullman migliorino un po' le loro prestazioni. Perché c'è gente che ha aspettato mezz'ora il Pullman e il Pullman non arrivava. E poi ha aspettato un'altra mezz'ora e hanno iniziato a telefonare, a incazzarsi così, no? E come ha detto l'altro giorno, hanno insultato un guidatore. Che non mi sembra neanche tanto giusto e neanche tanto civile. Però è successo anche questo. Io mi chiedo. Ma sono io? Cioè, a parte il fatto che i miei Eter diranno sì, la Germania è un paradiso, sei tu che non capisci un cazzo. Ma non è normale. E comunque, per quanto la nostra macchina sia distrutta, potrebbero ancora darci 300 euro se la vendiamo. Io, in un momento così di profonda cattiveria, ho detto, ma sì, possiamo andare tranquillamente a venderla e poi per me si può andare a piedi. Perché con la bici ho ancora un po' paura ad andare. Perché due giorni e mezzo d'ospedale non è che abbiano proprio aiutato il coraggio a svilupparsi, diciamo. I treni qua sono spesso in ritardo. Non come in Italia. Quanto meno quando io prendevo il treno in Italia era una cosa incredibile. Però qualche ritardo c'è oppure tolgono il treno. Il pullman, io non riesco a concepire come si faccia a trovare dei problemi in una tratta di 20 minuti. 25? Vogliamo dire mezz'ora? Ma come fai? Che poi ce ne sono diversi. E sono anche abbastanza belli come pullman. No, lui ha deciso che finiva la corsa lì e vaffanculo all'utente. Non ci hanno neanche dato delle spiegazioni. Ma perché? Io ho ancora due fermate da farmi. Perché poi, peraltro, la mattina, quando ci sono i pinguini che mi salutano fuori dal pullman. Perché devi fare questa cosa di mattina? A parte il fatto che io, vero, che prendo il pullman di mattina o la sera tardi quando torno dal lavoro. Perché ho da recuperare delle ore di lavoro. Quindi devo fare degli straordinari. Io non lo concepisco. Cioè, c'è gente che si trova benissimo in Germania. Io non dico che questa non sia la verità, la vostra verità. Cioè, come vivete tutti i giorni. Ma mi dovete spiegare come fate. E poi, soprattutto, così siamo vicini a Natale, no? Siccome siete tanto fortunati, no? Cedetelo, regalatelo questa vostra dose di enorme culo da elefanti. Non siate egoisti. Siamo vicino a Natale. Offri delle botte di culo, in senso botte di fortuna, non in senso sessuale, a una povera sfigata. No, comunque. Io non lo so, eh. Ma ci sono proprio delle cose che sono fuori dalla mia logica e che non riesco a capire. E ovviamente adesso abbiamo ricevuto questo documento di 19 pagine dove parla di tutti i danni della nostra macchina. Perché l'hanno analizzata per benino. Io non ci capisco niente, a parte la prima parte dove dicono più o meno quanti sono i danni, cosa è successo, eccetera, eccetera. E poi, sì, dovremmo dotare di una nuova macchina. Anche se per me, fosse per me, le industrie automobilistiche avrebbero già chiuso perché io una macchina mia, mia, veramente mia, non ce l'ho mai avuta. E penso proprio che non avrò mai soldi per averla. Quindi non c'è nessun rischio. C'è il più rischio che io litighi con qualche autista che mi lascia a piedi perché non riesco a capire. Va bene. Se qualcuno ha dei consigli costruttivi su come migliorare la mia vita in Germania, me lo dica senza cazziarmi perché tanto non serve assolutamente a niente. Se questo video ti è piaciuto, metti un like. Se non ti è piaciuto, metti pure un dislike. Condividi il mio video e mi aiuterai a far crescere il canale. Io ho cercato di essere professionale, ma non ci riesco. Sono una schizzata naturale. Non si può pretendere troppo da me. Comunque, cerchiamo di arrivare ai 1000 iscritti perché questa corsa ai 1000 iscritti non finisce più. Io vi ringrazio, vi mando un bacio. Buona serata. Ciao, ciao.